Costo dell'energia. Le fosche previsioni si stanno avverando. Ieri il prezzo del gas ha sfiorato la soglia dei 300 euro al megawattora, più 20% rispetto all'ultima rilevazione, ma l'incremento percentuale è molto maggiore se confrontato con i livelli pre-crisi. L'ultima impennata dei prezzi in ordine di tempo è legata all'annuncio della russa Gazprom della prossima chiusura per tre giorni del gasdotto Nord Stream che porta il metano in Europa. Secondo gli economisti del MES, il meccanismo europeo di stabilità, uno stop ad agosto del gas russo in mancanza di una riduzione dei consumi causerebbe l'esaurimento delle riserve in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea già a fine anno. In quel caso inevitabili le ripercussioni sull'economia. Il calo del PIL nell'eurozona sfiorerebbe il 2%. Nei paesi maggiormente dipendenti dal gas russo la perdita di ricchezza sarebbe anche maggiore. L'Italia è tra questi. Le misure attuate dal governo Draghi per contenere l'incari che oltre alle imprese, lo vediamo tutti, stanno colpendo lavoratori e famiglie, evidentemente non bastano. Altre sono allo studio. Questa sarà la tegola più grande in capo al futuro governo che si insedierà a fine settembre. Intanto il presidente di Confindustria Claudio Bonomi ha invitato i partiti ad ascoltare il grido d'allarme delle imprese. Sul piano concreto invita ad attuare un piano di razionamento dei consumi. Ebbene sì, siamo già a questo punto. Dalla Molise ne abbiamo parlato con Mauro Natale, esponente nazionale dell'Associazione degli Imprenditori. Quello che dice lei è esatto. Noi da tempo stiamo chiedendo di avere un programma serio. Ricordo che il primo d'ottobre inizia l'anno termico e quindi chiediamo in questo momento di grande difficoltà dove i prezzi, come lei diceva, aumentano giorno per giorno. Un importante programma di razionamento sul gas perché sicuramente quello sarà la strada. Altre nazioni lo stanno già facendo. L'Italia ancora non lo fa e chiediamo appunto che lo faccia più presto perché le imprese devono sapere già da adesso che cosa devono affrontare per il futuro. L'altra cosa che stiamo chiedendo, una cosa scomoda sicuramente che i partiti non vogliono affrontare in questo momento delle elezioni, è appunto un prezzo, un tetto al prezzo del gas che se non si fa in Europa il governo Draghi deve avere il coraggio di farlo in Italia subito. E sempre ieri almeno una buona notizia dall'Eni riguarda un'importante scoperta di gas a largo di Cipro. Le stime indicano 70 miliardi di metri cubi di riserve, ma c'è un ma. La messa in produzione del giacimento richiederà almeno due anni.